cari amici di bike channel benvenuti a questa nuova puntata di mondo triathlon io sono dario daddo nardone quest'oggi con noi c'è federico spinace ciao fede ciao daddo un piacere essere qui e allora che bello cominciare questa nostra chiacchierata con un atleta che ha cominciato col triathlon sin da quando era ragazzino ce lo facciamo raccontare noi facciamo sempre la domanda rompighiaccio per capire un pochettino come era fede la tua famiglia se era una famiglia sportiva e quali sono stati i tuoi primi sport che hai approcciato magari anche qualcosa di particolare ogni tanto viene fuori anche qualche richiede qualche novità qualche sport particolare che c'entra poco in realtà col triathlon nel tuo caso no in realtà nel mio caso la famiglia non era chissà che sportiva almeno non a livello agonistico però hanno sempre insistito per farmi fare sport fin da piccolino quindi sono stato fortunato in questo senso ho spaziato su diversi ambienti dal karate al nuoto che ball atletica quindi qualche qualche esperienza extra triathlon l'ho fatta non particolarmente agonistica diciamo così però dopo ecco con le con le scuole medie c'è stata la svolta ho trovato il mio professore di educazione fisica mi ha invogliato prima a fare atletica e poi poi da lì siamo passati al triathlon fantastico i mentori i professori che fanno questi questi lavori con i ragazzi li adoriamo e vorremmo che ce ne fossero sempre di più ascolta poi mi interessa mi incuriosisce il karate perché poi dal punto di vista anche soprattutto dell'aspetto mentale no è un po particolare come con sport cosa ti ricordi cosa ti ha lasciato sì diciamo che il karate come dici te tanta disciplina tanta tanta mente era uno sport che che sposava molto bene devo dire il mio carattere quello che è ancora adesso il mio carattere e mi piaceva però forse mancava quella quella parte di di agonismo che dopo ho trovato negli altri sport di mobilità perché mi sembra che qui presente gli piace poco star fermo insomma deve muoversi il nostro fede giustamente da triatleta mente allora dicevi prima l'atletica prima la corsa quello è stato il primo grande amore vero sportivo diciamo agonistico sì sì decisamente devo dire che ho fatto nuoto per tanti anni prima avevo fatto anche la propaganda quindi un pre agonismo non era il mio sport preferito l'ho capito abbastanza subito e dopo sempre stato un tira e molla perché avevo una scogliosi quindi nuotare mi faceva bene i miei hanno insistito un po per farmi continuare ma alla fine l'ho avuta vinta io dato che sono un bel testardo e ho iniziato a correre mi è mi è piaciuto subito molto di più uno sport più dinamico e meno meno monotono anche posso dire ma ho trovato soprattutto un ambiente molto bello con dei bei compagni di squadra e appunto questo professore delle scuole medie settimio stallone qui qui devo molto che è stato oltre che professore anche il mio primo allenatore fantastico bellissimo cosa ci racconti di questa prima fase nell'atletica cosa ti ricordi ci sono state già delle gare e qual era il tuo atteggiamento nei confronti della gara cioè tu sei eri già un agonista come ovviamente lo sei in questo momento che vivi di triathlon in maniera molto importante sì diciamo che l'approccio appunto agonistico mi è subito stato inculcato molto bene e oltre che che averlo insito nel mio carattere comunque ci stimolavamo molto tra compagni era una squadra competitiva quindi vivevo molto molto intensamente le gare e all'inizio sono comunque subito risultato abbastanza abbastanza competitivo e in effetti dopo il cambio dall'atletica al triathlon è stato abbastanza complicato perché mi sono trovato a dover scegliere tra uno sport in cui comunque ero già abbastanza forte avevo le mie soddisfazioni per passare a qualcosa di ignoto che non conoscevo però diciamo alla fine ne valsa la pena direi di sì la squadra la si contro la si contro la light che per te è stata ed è tuttora una grande famiglia quindi quanto è importante questo aspetto nella crescita di un di un atleta secondo te ma importantissimo è da 12 13 anni che gareggio per la silca è una squadra storica del trevigiano e del veneto che è una regione cardine del del movimento italiano e questo non è una banalità diciamo che è un grande stimolo per le gare e motivo di orgoglio per me rappresentare questa divisa bellissimo ci dicevi una cosa molto interessante anche perché quanti anni avevi quando poi approcciato il triathlon passando dall'atletica di fatto al triathlon ma avevo 12 13 anni ecco quindi lo stiamo sconoscendo insomma io che conosco già fede da qualche da qualche anno ormai so che questo è il suo atteggiamento molto posato molto tranquillo e determinato ma non è una cosa da tutti a 12 anni 13 anni avere questa capacità di scegliere di farsi accompagnare di vivere un qualcosa di così intenso com'è l'atletica prima il triathlon poi per te come è stata questa questa questo passaggio e questo crescere con lo sport ma diciamo che forse è in sito nei catteri noi tri atleti renderci la vita un po difficile quindi ho voluto intraprendere questa questa esperienza nuova tutto sommato probabilmente sapevo già che che mi sarebbe piaciuto per il nuoto lo conoscevo la corsa mi piaceva molto e comunque sono rimasti due due elementi molto presenti in questo sport e la bici incuriosiva quindi tutto sommato fatto una scelta si coraggiosa ma ma anche anche molto diciamo propositiva ok fa un po sorridere come spesso succede nel racconto della storia dei nostri protagonisti dei nostri ospiti il fatto che all'inizio parlano di un qualcosa che è un po di ignoto questa bici che non sappiamo ancora non abbiamo ancora esplorato il mondo bici adesso quando fede arriva alle gare io di solito lo presento dicendo che lui spiana le montagne in bicicletta ecco per dire qual è l'atteggiamento che ha sulle due ruote ed è ha scelto poi anche uno sport in particolare il cross triathlon dopo ne parleremo il mountain bike dove l'elemento bici ruote grasse è davvero molto importante quindi come è stata la scoperta delle due ruote e ti faccio subito la domanda che faccio spesso qual è stata la tua prima bici te lo ricordi sì la mia prima bici me la ricordo era una carraro in alluminio in dieci anni davvero è stato rivoluzionato il mondo delle biciclette dei mezzi meccanici e sì come dicevi te è una disciplina che mi è venuta molto naturale da subito è proprio una propensione che è stata accentuata dopo dalla grande professionalità devo dire dei miei allenatori del mio allenatore che è tuttora il mio allenatore il primo e niente ho continuato negli anni diciamo dimostrare questa mia caratteristica e continuo a farne il mio cavallo di battaglia benissimo allora siamo arrivati al momento fatidico del primo triathlon che non si scorda mai e che vogliamo che fede ci racconti proprio nei dettagli sì il mio primo triathlon in realtà è stato molto particolare perché è stato nella mia città d'origine o meglio nella città d'origine della mia società di vittorio veneto io sono di conegliano che è la città confinante ma vittorio veneto è la città della mia società è organizzata proprio dalla mia società quindi correvo proprio in casa fantastico per farti capire però diciamo ero veramente agli inizi e non ero ancora molto preparato sotto gli aspetti regolamentari ti dico sono stato squalificato perché ho usato la bici sbagliata nelle categorie giovanili nel triathlon bisogna utilizzare la mountain bike anche su strada anche su se il fondo asfaltato e io ho usato la bici da corsa perché ero proprio veramente agli inizi ok come sensazioni però com'è andata in ogni caso è stata un'esperienza assolutamente positiva mi sono divertito tantissimo e anche quello che penso mi abbia convinto poi poi a continuare ecco quando è che hai avuto la consapevolezza insomma quanto in che età avevi quando hai cominciato a 12 anni fantastico quando è che hai maturato dentro di te quel sentore che questo sport cavoli è proprio lo sport che fa per me e voglio darci dentro ma io penso di averlo capito subito in realtà perché mi sono divertito talmente tanto trovato questa varietà incredibile all'interno di una sola gara che era impossibile a quel punto poi tirarmi indietro allora cominciamo a raccontare perché da lì in avanti poi nostro fede ovviamente non si è fermato più e adesso ci racconterà poi alla fine anche di esperienze importanti a livello internazionale come è andato avanti il tuo percorso dopo quel primo esordio con squalifica poi ci sarà stata una prima gara con un arrivo un traguardo conquistato per davvero diciamo in classifica si diciamo che i primi anni sono sviluppati tra le gare delle categorie giovanili soprattutto della coppa nord est che era un po il circuito giovanile che quegli anni era veramente molto partecipato e ha rappresentato un momento di crescita molto grande per il movimento di triathlon giovanile italiano diciamo che da 12 anni a questa parte da quando faccio triathlon ho visto un movimento completamente rivoluzionato e nonostante il tempo trascorso non sia molto davvero vedo dei cambiamenti nonostante la mia giovanità davvero importanti quei primi anni come dicevo nelle categorie giovanili stati belli soprattutto belli mi sono divertito tanto ho imparato tanto avuto quasi subito dopo pochi anni l'occasione di entrare in nazionale giovanile nella quale ho conosciuto tantissimi atleti che mi hanno insegnato tanto dal punto di vista tecnico umano nel questo periodo dove ero cementato tante amicizie che mi porta ancora ancora dietro raccontaci allora l'emozione del primo body azzurro ti ricordi quando è stato in che gara sì il primo body azzurro è stato a ginevra in una coppa europa junior io a dire la verità ero ancora nella categoria jutta quindi nella categoria precedente ho gareggiato con atleti più grandi è stato qualcosa davvero che al momento vissuto con qualcosa di gigantesco di bello ma ma estremamente difficile devo dire il percorso di bici in particolare che è la mia disciplina prediletta era bello c'era tanta salita mi sono divertito tanto ho fatto un bel recupero nonostante un nuoto che mi ha un po penalizzato e mi ricordo solo sinceramente tanto divertimento la posizione non era stata eccezionale intorno al trentesimo posto se non sbaglio però mi ha mi ha dato una scossa adrenalinica incredibile fantastico anche perché vedere questi atleti più grandi o comunque poter vedere anche da vicino ecco e in questi anni di triathlon in questi primi anni di triathlon avevi già magari un punto di riferimento in italia all'estero degli atleti che seguivi ti piace seguire anche il triathlon internazionale da questo punto di vista assolutamente diciamo anche in quegli anni ci conoscevamo abbastanza bene ho avuto la fortuna di fare subito amicizia con gli atleti stranieri avevamo un bel gruppetto nelle coppe europa junior dopo c'è stato anche un bel progetto in cui nazionale italiana collaborava con quella inglese e avuto la fortuna di conoscere davvero quelli e ora sono grandissimi atleti uno stuti alexi che vice campione olimpico alla mia età è sempre un 98 e ho avuto la possibilità appunto di conoscerli oltre sotto il punto di vista atletico anche sotto il punto di vista umano e è stato bello bellissimo e quali sono nel triathlon su strada fino ad ora le soddisfazioni più importanti o comunque le gare che ti hanno regalato qualcosa magari non è stata una vittoria un piazzamento di chissà quale tipo ma come ci dicevi prima un orgoglio di aver fatto parte di aver conquistato la tua finish line ma è difficile scegliere tra tanti bei momenti però sicuramente il la vittoria del campionato italiano junior a monte silvano del 2016 la ricordo con estremo piacere è stato uno di quei giorni in cui ti senti benissimo in cui senti che nulla può fermarti e quindi davvero una bella vittoria con ottime sensazioni quindi un ricordo bellissimo poi tanti altri insomma tante maglie azzurre il podio a tabor in coppa europa davvero tante gare difficile a scegliere bellissimo diceva appunto il triathlon su strada perché come accennavo prima adesso federico è uno dei protagonisti a livello internazionale del circuito che è denominato appunto il nome exterra il circuito più famoso e importante del di cross triathlon al mondo nato nel 1995 alle hawaii una storia simile diciamo a quella che è quella dell'aeroman e che negli ultimi anni in maniera sempre più importante esploso in italia anche in particolare con degli eventi molto importanti ultimo negli ultimi due anni si è disputato proprio in italia il campionato del mondo exterra che per 25 anni si era svolto alle hawaii in tutto questo vorremmo capire per te come è arrivato l'approccio al cross triathlon appunto il triathlon che prevede nuoto mountain bike e in genere trail run quindi una vera e propria frazione di corsa con meno asfalto possibile come mai è arrivato nella tua vita da atleta e qual è stata la scelta e poi andiamo a raccontare tutto quello che hai vissuto fino ad ora si diciamo che il cross l'ho scoperto un po nella categoria under 23 abbastanza per caso perché durante la preparazione invernale avevo bisogno di forse di qualche stimolo nuovo e anche di un mezzo per potermi allenare nei mesi più freddi e nella mountain bike ho trovato questa opportunità dopodiché da un mezzo di allenamento invernale è diventato davvero una scoperta di una nuova disciplina e negli ultimi tre anni diciamo che mi sono concentrato molto di più sul cross triathlon con anche discreti risultati devo dire e soddisfazioni e lui è molto modesto perché gli chiama discreti ma tra questi discreti c'è anche un titolo iridato adesso ci arriviamo quello che ti volevo chiedere ecco banalmente per un triatleta però chiaramente c'è una differenza tra bici da strada e mountain bike e chiaramente la differenza la fanno anche i percorsi in generale se possiamo usare questo termine quali sono le macro differenze tra il triathlon su strada e il cross triathlon? sì diciamo che secondo me le due principali macro differenze sono appunto il mezzo e quindi la componente tecnica che subentra nella guida della mountain bike ma anche la distribuzione delle energie in gara e soprattutto la distribuzione dell'importanza delle specialità perché appunto nel triathlon cross come dicevi la frazione ciclistica assume un'importanza molto particolare ed è un punto cardine di tutta la gara dove non dico che si gioca tutto ma la maggior parte della prestazione ecco quindi non è sempre facile conciliare le due discipline perché io essendo testardo come ti dicevo prima cerco di portare avanti sia il triathlon su strada anche il cross e appunto perché c'è una distribuzione delle specialità e delle energie che si mettono in gioco con le specialità diverse magari nel cross triathlon la frazione di nuoto talvolta risulta meno determinante rispetto al triathlon su strada dove in determinati percorsi se non esci davanti dalla frazione di nuoto sei abbastanza tagliato fuori per le posizioni di vertice mentre nel cross triathlon davvero si può assistere un salimonte incredibile anche di diversi minuti senza problemi quali sono i tuoi percorsi preferiti nel cross triathlonami in particolare che ne so il fango piuttosto che una salita molto accentuata dal punto di vista tecnico spiegaci sì diciamo sono sempre stato abbastanza abile nei percorsi fangosi con la pioggia mi esalto devo dire anche sull'asciutto non ho assolutamente nessun tipo di problema e preferisco i percorsi dove tendenzialmente non sono salite lunghe ma salite abbastanza corte esplosive comunque sono un passista scalatore abbastanza pesante sui sopra i 70 kg quindi diciamo le salite lunghe forse sono un po il mio punto debole ci sto lavorando perché comunque i percorsi nell'Xterra sono tosti e bisogna lavorare anche su quell'aspetto però sui percorsi più esplosivi diciamo il mio meglio fantastico e ho accennato anche all'aspetto fango perché io ricordo ne parlavamo poi anche recentemente con con federico della sua foto in una gara appunto molto importante che segnava i titoli mondiali di cross triathlon per la world triathlon per il appunto il circuito internazionale della federazione internazionale del triathlon e l'aniglio in spagna giusto e questa foto lo ritrae praticamente come l'uomo fango completamente ricoperto lui e la sua bici era non tutt'uno ed è arrivata questa gioia iridata come come ce la racconti hai ragione daddo quello è stato un giorno davvero drammatico dal punto di vista meteorologico ma molto dolce per me il mio titolo mondiale nel 23 è arrivato proprio sotto un diluvio anzi a dire la verità i tre giorni di diluvio che hanno compromesso parecchio le condizioni del percorso ma che alla fine come ti dicevo mi hanno esaltato sotto l'acqua non nascondo avuto anche un inconveniente meccanico c'era davvero tantissima acqua un terreno sabbioso che dopo ha praticamente distrutto la maggior parte delle componenti della bici però una giornata che davvero ricordo con grande piacere una prestazione una delle più belle la mia carriera penso ricordo ovviamente anche la foto del podio ma un'altra cosa molto bella che successe che quando torno a casa e il nostro fede fu accolto dai suoi paesani con paesani in una maniera davvero unica e quindi anche quelle foto quelle immagini ci sono rimaste nel cuore ci racconti anche con l'esperienza si devo dire che l'accoglienza a casa è stata magica proprio il fatto di parlavamo prima il fatto di essere sempre rimasto nella società d'origine e anche la sua valenza la sua importanza per tutti la silca è nata proprio nel mio paese ogliano che una frazione di conegliano quindi ha delle radici importanti nella mia terra a casa mia e tutte le persone che sono venute sia diciamo della parte della società quindi sportivi ma anche proprio miei compaesani mi hanno fatto un regalo magnifico è stata forse ancora più bello del momento del podio una sorpresa meravigliosa fantastico allora adesso invece inoltriamoci di più nel mondo exterra che un po appunto diciamo il il movimento principale del cross triathlon che negli ultimi anni dicevamo in italia con addirittura quattro gare e il mondiale e in tutto il mondo comunque con nell'ultima stagione appunto anche la proposta della prima exterra world cup quindi una serie di tappe della coppa del mondo sta crescendo davvero molto in maniera molto importante e sta così coinvolgendo sempre più atleti tant'è che il livello si alza davvero in maniera importante tra l'altro poi vorrei capire anche da parte tua cosa ne pensi di questa novità e del nuovo triathlon che avanza con queste distanze corte e fast and furious come vengono definite tra cui appunto l'ixterra short track che adesso ci facciamo raccontare un po da fede assolutamente è un mondo davvero dinamico quello dell'ixterra e tante gare fortunatamente in italia è un territorio fantastico e super vario sembra veramente ideale per l'ixterra direi che è perfetto sono gare immerse nella natura ho avuto la fortuna di gare già in tutte e quattro le tappe italiane che sono l'ixterra garda a toscolano maderno xterra scanno xterra sardegna è appunto il mondiale che nominava in trentino e quattro gare completamente diverse ma ma che poi giocare in casa ti lasciano un sapore molto dolce in bocca e un mondo come dicevi anche in evoluzione perché hanno introdotto da praticamente due anni questo formato dello short track anzi in realtà da prima ma da due anni stanno insistendo molto di più su questa su questa gara è una gara estremamente spettacolare televisiva ma devo dire durissima per gli atleti perché anzi è anche sempre posizionata il giorno precedente o il giorno successivo alla gara lunga quindi diventa uno sforzo su due giorni assolutamente impegnativo come se non lo fosse già abbastanza prima sì devo dire da spettatore che è assolutamente super godibile però adesso stavo pensando alla fatica come ci faceva sottolineava insomma federico in effetti è una fatica perché siete sempre a tutta come si dice dal primo all'ultimo metro si è difficilissimo questo tipo di sforzo anche se devo dire molto divertente anche per noi oltre che da vedere immagino e aggiunge qualche complicazione devo dire nella gestione della gara però tutto sommato ne vale la pena inoltre l'ix terra ha introdotto anche le distanze lunghe long distance ho avuto la possibilità di provarlo in sardegna c'è lì proprio te a commentare la gara una gara che ricordo con grande piacere con una bella vittoria sulla distanza più lunga ha disputato finora oltre quattro ore e venti di gara quindi fantastico devo dire che stiamo spaziando dal super corto al super lungo quindi ecco ti volevo chiedere anche una cosa rispetto appunto al mondo ix terra al mondo del cross triathlon anche da sempre e comunque continua a mantenere nonostante la crescita si vive un ambiente più non rilassato più rock and roll diciamo più anche familiare perché decisamente ci sono magari dei numeri inferiori rispetto al triathlon su strada ma al di là dei numeri è proprio un approccio che non vuol dire che poi gli atleti siano meno performanti anzi coltello tra i denti e poi bisogna amminare dal primo all'ultimo metro ma alla fine veramente è molto piacevole quel clima di accoglienza di amicizia che si vive tra tutti voi si assolutamente te lo confermo tra noi si è creato davvero un bel legame tra noi intendo il gruppo di atleti con cui ce la giochiamo a livello internazionale soprattutto tra noi europei ma non solo è proprio un approccio non alla gara ma alla location all'ambiente la settimana di gara diverso c'è sempre molta collaborazione tra noi non è strano che andiamo a provare i percorsi in compagnia con ragazzi stranieri ma i francesi tedeschi piuttosto che inglesi e via dicendo è davvero un modo siccome di vivere lo sport molto molto bello a tratti rilassato ma non vuol dire che sia fatto male e soprattutto con la consapevolezza di vivere un qualcosa di unico perché il nostro è un lavoro tra virgolette è forse uno dei più belli del mondo e quindi cerchiamo davvero di apprezzare questa questa componente della gara Fede sei un triatleta esperto perché ovviamente dobbiamo definirti così per l'anzianità di stagioni già sulle spalle ma sei assolutamente giovanissimo nel pieno della tua scoperta del mondo dello studio dello sport e del lavoro che in questo caso ci sta dicendo il tuo lavoro e la tua passione coincidono sono appunto il triatron ci racconti un po' a che punto sei della tua vita che cosa stai facendo in questo momento e quali sono le tue prospettive per le prossime stagioni si diciamo che insieme all'atleta io sto studiando sto facendo una laurea magistrale in alimentazione e nutrizione umana e sono il quinto anno di studi quindi diciamo nel mio futuro c'è c'è la disciplina del biologo nutrizionista è un qualcosa che riesco a conciliare abbastanza bene con lo sport non è sempre facile ma assolutamente possibile fare gli atleti e gli studenti insieme è un privilegio per me prima di tutto prima che un impegno e soprattutto ho scelto una disciplina che mi consente di approfondire quello che faccio e di migliorarmi anche in qualche modo nel mondo dello sport certo anche perché anche questa è una considerazione un po' banale ma l'alimentazione è uno dei fondamenti del nostro sport dello sport di endurance in particolare tu hai un approccio appunto particolare è un'attenzione ulteriore visto anche quello che studi si diciamo che in questi anni sto cercando anche di sperimentare un po su di me di trovare la ricetta magica perché siamo tutti diversi è un mondo il nostro alla nutrizione in continua evoluzione ci sono davvero ogni anno nuove scoperte quindi bisogna un po trovare la quadra come dicevi si sono un atleta con abbastanza esperienza ma davvero in un mondo complicato come quello del triathlon non ci sente mai degli atleti anziani con dell'esperienza perché sempre sono sempre tante cose nuove da scoprire e confermo questa cosa assolutamente l'ultima domanda prima di lasciarci anche se anche con fede come sappiamo avremmo potremmo andare avanti a raccontare un sacco di belle cose chissà che appunto in futuro ci facciamo un'altra bella chiacchierata con lui riguarda il tuo sogno nel cassetto ecco ti do il là e ti dico anche ma stai ci hai mai pensato anche magari alle distanze lunghe nel triathlon su strada o comunque quali sono i tuoi obiettivi che vedi in questo momento che vorresti un giorno realizzare si al momento devo dire che sono ancora concentrato nel triathlon su strada e nel cross nell'ex terra e non escludo in un futuro non so quanto lontano le lunghe distanze comunque penso siano delle gare che mi si addicono a livello di caratteristiche e il sogno nel cassetto so che è qualcosa di molto difficile mi piacerebbe dopo il titolo mondiale da junior nella staffetta ai duathlon e quello da under 23 nel cross che abbiamo nominato prima riuscire a vincere anche un titolo mondiale livello elite assoluto e riuscire a completare questa tripletta è qualcosa che inseguirò non so in quale disciplina ancora ma è un po la motivazione che che mi fa muovere fantastico e noi allora davvero facciamo un grande in bocca al lupo val nostro federico spinazze grazie di essere stato qui con noi quest'oggi termina qui la puntata di mondo triathlon ovviamente ci vediamo su bike channel per la prossima da duceio triamo buon triathlon a tutti ciao amici ciao a tutti ciao a tutti